Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Oggi vorrei parlarvi di un argomento un po' particolare. Quando io ho cominciato a pubblicare regolarmente video su questo canale, quando ho cominciato Diario di Viaggio on the road nel lontano febbraio del 2014, l'ho fatto non solo per parlare di argomenti di cultura generale, ma anche, dove mi era possibile, per presentarvi canali YouTube che seguo e che ho trovato molto interessanti. In questi cinque, quasi sei anni di attività del canale ho presentato moltissimi canali YouTube, e alcuni di questi canali sono stati dei progetti molto interessanti, ma sono stati dei progetti che si sono conclusi o che si sono fermati. Oggi vorrei ripercorrere con voi alcuni di questi canali che vi ho presentato e che si sono fermati, o alcuni che avrei voluto presentarvi, ma, appunto, nel corso del tempo si sono fermati e le cose sono venute a cambiare, sono diventate differenti. Per cui cominciamo in buono. Sigla! Anzitutto parliamo dell'amico portoricano Roberto Cordero, che ha deciso di prendere una pausa e disintossicarsi dai social, e nel farlo ha cancellato il proprio canale YouTube, e quindi ha cancellato tutti i suoi video, compreso il video nel quale mi insegnava a fare i sottotitoli con la trascrizione e sincronizzazione automatica. Non lo sento da moltissimo tempo, perché una volta che è chiuso anche i vari profili social, ha chiuso il suo account Twitter, non ho modo di contattarlo. Ma veniamo quindi ai canali che si sono fermati. Primo fra tutti il buon Robin, ambucianne l'112, che è stato un canale veramente molto interessante su quella che era la guida in condizioni di sicurezza. Ci presentava la guida dell'ambulanza in situazioni del traffico generale di Amersfoort, o del circondario di Amersfoort in Olanda. È andato a sbattere, tra molte virgolette, con un gigantesco problema di privacy posto dal suo datore di lavoro, e quindi ha dovuto rimuovere tutti i video che c'erano sul canale. Mi ha insegnato molte cose che io non sapevo, e che io adesso applico nella guida di tutti i giorni, sia nell'ambito della sicurezza sia nell'ambito del modo di far capire ai mezzi di emergenza che li ho visti e gli sto lasciando strada come l'uso delle frecce e delle quattro frecce, e mi dispiace moltissimo che il canale sia andato in questo modo. Aspettiamo gli sviluppi. Parliamo di Adam Russell, del canale CrashbangAdam. Adam ha concluso il progetto, si è sposato con Bethan, e adesso hanno una start-up che si chiama Bishop Please. Quello che stanno facendo in ambito social è soprattutto spingere sulle loro attività di coppia, quindi spingere sulla loro attività commerciale, per cui tutto l'ambito social è adesso orientato da quella parte e stanno usando il canale di Adam & Bethan Show per parlare delle loro attività in giro per la Gran Bretagna e dei loro nuovi prodotti, giustamente. Gross Science, il canale gestito da Anna Rothschild, che è stato una delle più importanti vittime dell'Apocalypse, sicuramente, perché era un progetto di divulgazione scientifica molto interessante, su quella che è la scienza un pochino più schifosetta, appunto quella roba più gross, come si dice in inglese. Però il problema è che, per gli argomenti trattati anche se in ambito scientifico e didascalico, il canale è stato sottoposto a gigantesche demonetizzazioni, Anna Rothschild è impegnata in altri progetti e Gross Science è un progetto che al momento risulta sospeso e non sappiamo se verrà mai ripreso. Lifeguard Rescue, un canale di bagnini che voleva far vedere come, in una grossa piscina piena di gente, i bagnini devono avere un occhio di falco per vedere in mezzo a tutta la confusione chi è che ha bisogno di aiuto. Il problema di questo canale sicuramente è stato quello che un video andò virale, superò veramente milioni di visualizzazioni forse arrivò a 10 milioni di visualizzazioni, rilanciò questo canale che era molto piccolino. Questa fama improvvisa non è stata accolta nella maniera sicuramente più funzionale, perché il risultato è che ha cercato di andare avanti, ha cercato di sviluppare altri progetti, ma dopodiché è fermo. Sono diversi mesi che non viene pubblicato un video, già nell'ultimo periodo pubblichava un video una volta ogni tanto, e quindi probabilmente a seguito di quella viralità ci si era aspettati che le cose funzionassero un po' meglio, ma... peccato. il buon Ricky ha messo la propria famiglia di fronte al proprio canale YouTube, scelta rispettabilissima, quindi ha deciso di accantonare il proprio progetto. Di nuovo mi dispiace, perché sono stati contenuti veramente di intrattenimento, è stato ed è un nerd molto simpatico, ma giustamente ha detto «io adesso voglio godermi la mia famiglia» non godermi il lavoro che c'è alle spalle per realizzare di YouTube, e quindi ci sta benissimo. Tommy Edison, il critico cinematografico cieco, è il progetto Tommy Edison XP che mi ha insegnato tantissime cose su come interfacciarsi con una persona non vedente, come aiutare, come venire incontro, piccoli trucchi che usano le persone non vedenti, che possono essere utili anche alle persone che ci vedono. Il progetto si è concluso, Tommy fa il DJ e sta portando avanti quel progetto, quindi il progetto Tommy Edison XP si è concluso. Mi dispiace, perché c'erano ancora moltissime curiosità che mi sarebbe piaciuto conoscere, perché comunque Tommy è un grandissimo intrattenitore, è una persona di una simpatia immensa e, come ripeto, mi ha insegnato moltissime cose. il progetto si è concluso. E infine Matthew Watts, del canale Viva la Watts! Matthew è un ragazzo canadese simpaticissimo, ho cominciato a seguire il suo canale quando ho cominciato a seguire il primo Matthew Santoro, quando Matt ancora aveva sotto i 10.000 iscritti, i due Matt avevano dei canali piccolini e interagivano molto, collaboravano assieme, facevano tante cose simpatiche. Matthew aveva un canale molto di intrattenimento, molto simpatico, e il canale Viva la Watts! improvvisamente si è fermato per mancanza di tempo e per grossi impegni lavorativi, solo che poi anche il buon Matthew Watts ha deciso di disintossicarsi dai social, ha rimosso tutti i suoi video, compare una volta ogni tanto su Twitter, fa un tweet e poi sparisce per un anno, compare una volta ogni tanto su Instagram, fa un post e poi sparisce magari per un anno. Una persona che era molto vicina, ci siamo sentiti, mi ha detto «sì, sta lavorando tantissimo, è pieno di lavoro, dalla testa ai piedi letteralmente, quindi ha accantonato i social, si sta disintossicando, ma è comunque tutto a posto». Di nuovo, ripeto, mi fa piacere sapere che comunque tutto va bene, lui sta lavorando e ci mancherebbe altro. Bene, questi sono alcuni dei più importanti canali YouTube stranieri che io ho presentato nel corso del tempo e che successivamente hanno concluso il loro progetto. Come ripeto, da una parte dispiace vedere che un progetto o giunge alla propria conclusione o va a morire, perché comunque sono sempre contenuti di intrattenimento, vieni a conoscere la simpatia di un personaggio, la simpatia di determinati contenuti e nel corso del tempo cominci un po' anche ad abituarti a questi contenuti e poi arriva il momento in cui questi contenuti concludono. Eh beh, ci sta. Gli impegni, la famiglia, il lavoro sono sicuramente cose che devono venire prima dell'intrattenimento sui social. L'intrattenimento sui social, secondo me, deve essere soprattutto un passatempo. Può diventare anche un lavoro, ma quando non è un lavoro, il lavoro principale deve essere preso sempre con molta importanza, anche se i social dovessero diventare un lavoro, vanno presi con la giusta importanza. Voi che cosa mi dite? Ci sono altri canali YouTube stranieri che conoscete, che seguivate, che sono stati molto interessanti ma che poi sono andati a concludersi perché si è concluso il progetto o perché lo youtuber ha deciso di accantonare il canale YouTube e dedicarsi a un'altra cosa, o magari perché lo youtuber ha deciso di accantonare il canale YouTube e dedicarsi a un'altra tipologia di contenuto su YouTube? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DbOtr. Bene, con questo video spero di essere riuscito a farvi conoscere dei progetti che sono stati molto interessanti finché sono durati, ci può stare. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice-in-alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su Whatsapp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Che sì, era una battuta anche dell'amico Roberto Cordero. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul diario di viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre GRAZIE, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!